Credo che ci sia un problema importante che riguarda milioni di bambini, decine di milioni Ho visto da parte della Commissione una scarsa volontà a fornire risposte, viste anche le risoluzioni del Parlamento Abbiamo ricevuto veramente poche risposte dalla Commissione, si parlava di un'etichettatura che dimostrasse anche la responsabilità delle imprese e la violazione anche dei diritti umani in queste aziende C'è un problema di responsabilità civile d'impresa Per questa audizione abbiamo avuto una risposta dalla J.I.P. Che dice che per l'industria del caffè e del cacao queste sono questioni importanti Ma dicono che questa Commissione non sia la sede adeguata per discuterne e quindi hanno rifiutato l'invito Però volevo sapere che cosa ne pensa lei Anche dalla prospettiva di una impresa importante Ma servono delle risposte della Commissione Un altro punto Sui consumatori Una trentina di parlamentari hanno fatto domande su questi regimi di certificazione E allora mi chiedo Se lei ci può dare delle risposte Perché questo riguarda le violazioni dei diritti umani e il lavoro infantile E in conclusione Al signor Blanco volevo porre una domanda Mi chiedevo se magari può darci dei dati sul primo anno Su questa partnership relativa a Mars Lei ha fatto menzione di alcuni dati Ma vorremmo dei risultati precisi Sull'attuazione del regolamento Grazie